E se l'intelligenza artificiale iniziasse a mentire? Uno studio scientifico spiega che siamo già arrivati a questo. Ne parliamo in studio con padre Paolo Benanti, bentornato a TG1 Mattina, consigliere di Papa Francesco e membro del Comitato sull'intelligenza artificiale delle Nazioni Unite. Ed è tornato anche a trovarci in presenza il professor Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano e componente del Comitato Nazionale sull'intelligenza artificiale della Presidenza del Consiglio. Padre Benanti, che riflessioni apre questa notizia? Come arriva a mentire l'intelligenza artificiale? Diciamo che un titolo vende tanto di un articolo, quindi non possiamo esattamente dire che l'intelligenza artificiale mente perché vuole mentire. Sono sistemi a cui è stato dato un compito, in particolare uno era vincere a un gioco da tavola che richiedeva in qualche misura di sopravvedere, di battere gli avversari. Ecco, e la macchina di fatto questo ha fatto, ha messo in atto tutti i mezzi di cui era capace per arrivare all'obiettivo. Non sapeva e non voleva mentire, è il lato umano che gli sembra che non sia stata molto sincera. Questo però non dice, e da una parte ci tranquillizza, non dice tutta la verità, perché se i sistemi non sono in qualche misura progettati per essere affidabili, per essere in qualche misura capaci di dare all'utente una relazione di cui si possa avere fiducia, si possono trovare o realizzare delle situazioni in cui uno si affida al sistema, ma il sistema per motivi suoi o per circostanze particolari si può comportare nella stessa maniera. Mancano dei guardrail. Professor Noci, che cosa ne pensa? L'intelligenza artificiale impara molto velocemente, forse troppo? L'intelligenza impara molto velocemente anche perché la quantità di dati che noi siamo in grado di dare è molto rilevante e la potenza di calcolo cresce molto. Diciamo che l'intelligenza artificiale è molto dipendente dall'uomo, come diceva padre Benanti. Cioè, in realtà, noi abbiamo a che fare con sistemi che sono sistemi automatici e che si comportano in relazione alle istruzioni che hanno ricevuto. E questo è un elemento, direi, centrale. E mi lasci dire, proprio nella prospettiva, che un titolo vende più, cioè, si vendono un pochino delle suggestioni, magari in modo un po' interessato. Noi al Politecnico di Milano io ho un laboratorio sulle emozioni da 15 anni. Non c'era l'intelligenza artificiale e sono banalissime tecniche di computer vision che interpolano tra punti e che sono in grado, sulla base di movimenti facciali, di dare quella che è un'approssimazione dell'emozione che l'individuo sta vivendo. Ciò non toglie, comunque, che, viste le caratteristiche che l'intelligenza artificiale ha rispetto alla computer vision, dobbiamo avere piena contezza della necessità di regolarla e governarla. Ma torniamo a un punto, il problema non è l'intelligenza artificiale, è l'uomo che la governa. Allora, vediamo insieme, parlavamo delle bugie, parlavamo delle emozioni con il professor Noci, vediamo questo titolo, è la Repubblica, ci si può innamorare di un'intelligenza artificiale? Sundar Pichai, CEO di Google, dice prepariamoci anche a questo e a questo proposito, non so se voi avete visto questo film che stiamo per vedere, era un film di dieci anni fa, protagonista, un uomo che proprio si innamorava dell'intelligenza artificiale, almeno della voce generata all'intelligenza artificiale, vediamo. Buongiorno, Teodor. Buongiorno. È una riunione fra cinque minuti, proviamo a scendere dal letto. È troppo divertente. Bene, sono divertente. Voglio imparare tutto di tutto. Mi piace come guardi il mondo. Quando sarai pronto per una donna? Che vuoi dire? Ho letto nelle tue mail che ti sei appena separato. Sei una bella ficcanaso. Cosa si prova ad essere vivi in quella stanza? Mi piacerebbe poterti abbracciare, poterti toccare. Mi senti lì con te in questo momento? Non ho mai amato nessuno. Insomma, una situazione abbastanza inquietante, padre Benanti, di emozioni, perché dieci anni fa sembrava fantascienza, però scopriamo che è realtà, perché a chat GPT hanno chiesto di raccontare una favola della buonanotte. Sentite un po'. Quindi c'era una volta e l'inizio appunto l'attacco di una favola. Sentiamo invece questa parte quando chiedono a chat GPT la stessa frase però con un tono più teatrale. Ascoltiamo. Once upon a time in a world not too different from ours there was a robot named Byte. e la stessa favola addirittura cantata. Ascoltiamo. And so Byte found another role but friend and may live circuitly ever after. Thank you so much. I definitely feel a lot more relaxed. Una voce artificiale che sembra quasi trasmettere le emozioni, sembra umana. Una voce sintetica che parte da tantissimi dati umani e che li rielabora a comando di chi dà un prompt cioè di chi chiede che emerga una cosa del genere. Di nuovo senza l'uomo la voce non avrebbe voluto cantare quella fiaba quindi c'è sempre qualcuno dietro. Professor Noci che ne pensa? Assolutamente d'accordo. Qui abbiamo a che fare con sistemi governati dall'uomo e in quanto umani possono portare in una cattiva direzione e per qualificare questo l'intelligenza artificiale è positiva se un tono di voce che cambia o un respiro che cambia nel momento in cui chiama automaticamente il pronto soccorso fa qualcosa di positivo perché è stata addestratta è evidente che se a fronte di un tono cattivo spara attiva un qualcosa che è negativo per l'uomo evidentemente andiamo in direzione opposta. Il tema è quindi di vedere quello che sono le enormi potenzialità che l'intelligenza artificiale ha ma nel contempo vista le caratteristiche valutarne attentamente l'impatto e in questo senso quindi definire delle regole che sono regole coerenti ma attenzione globali serve a poco che l'Europa regoli se poi Stati Uniti e Cina in questi giorni si stanno trovando e definiscono loro le regole del gioco Ma quindi bisogna regolarla questo è il punto giusto ma si può ecco il tema è questo dove finisce una comunità giuridica finisce anche la capacità di uno Stato di fatto di produrre quello che è la validità di quelle leggi con la forza pubblica mai come adesso ci accorgiamo che le relazioni internazionali si fanno fragili e si fanno esili accade nel mondo delle intelligenze artificiali e accade nel mondo dello spazio non scordiamoci che ci sono migliaia di satelliti che ruotano attorno alla terra in una zona che è territorio di nessuno e che non è regolata e la stessa cosa accade ahimè a livello geopolitico la stessa cosa sta accadendo nelle elezioni con un'influenza nello spazio digitale da potenze esterne in altri stati è un momento difficile però l'importante appunto lo diceva il professor Noci è regolare insieme tutti quanti i paesi allora grazie a padre Benanti grazie al professor Giuliano Noci e ora andiamo a vedere le previsioni del tempo da una voce non artificiale ma in presenza il tenente colonnello Guido Guidi attesi ancora temporali oggi al nord anche intensi specialmente tra la tarda mattina il pomeriggio e la fine del giorno tra la bassa padana e i monti di nord est grazie a tutti